Le formule per la scomposizione di somma e differenza di cubi sono queste. Come possiamo notare, la scomposizione è data da un binomio con lo stesso segno del binomio di partenza e da un trinomio, irriducibile, che somiglia allo sviluppo del quadrato di un binomio, ma ha come termine centrale il prodotto di A e B e non il loro doppio prodotto. Vi lascio il link a un mio video sulla scomposizione con Ruffini, dove spiego il ragionamento che permette di arrivare a queste formule. Vediamo subito delle applicazioni pratiche, risolvendo qualche esercizio. La strategia sarà semplice. Individueremo i termini base A e B e poi sfrutteremo la formula per scrivere la scomposizione. Vediamo il primo esercizio. x alla terza è il cubo di x, mentre 27 è il cubo di 3. I nostri termini A e B sono allora x e 3. Iniziamo scrivendo il binomio dei termini base con lo stesso segno di quello iniziale. Dobbiamo poi completare col trinomio, ricordando che i segni saranno tutti positivi e che avremo quadrato del primo termine, prodotto dei due termini e quadrato del secondo termine. Vediamo il secondo esempio. 8y alla sesta è il cubo di 2y alla seconda, e z al cubo è il cubo di z. Trovati i due termini base, scriviamo il binomio con il segno più e poi completiamo col trinomio irriducibile, secondo lo schema della formula. Vediamo anche un esempio con frazioni. Un ottavo è il cubo di un mezzo, A alla terza di A, e 125 di 5. Quindi il nostro binomio delle basi, con segno meno, è un mezzo A meno 5. Completiamo ora col trinomio irriducibile, sfruttando lo sviluppo della formula. Nel quarto esercizio vediamo invece un esempio con un termine base formato da più elementi. Infatti, x più y alla terza è il cubo di x più y, mentre 64 è il cubo di 4. Allora il primo termine sarà x più y, e il secondo 4. Per scrivere lo sviluppo dobbiamo ricordare che x più y è un termine da considerare unico. Allora scriviamo la differenza tra i nostri termini A e B, e poi lo sviluppo secondo la formula. Per completare l'esercizio possiamo sviluppare i calcoli ottenendo quella che è la scomposizione finale. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!